Presentazione in sala giunta per la squadra napoletana di calcio femminile che si appresta ad affrontare il campionato nazionale di Serie B sotto la guida del tecnico Peppe Marino. L'obiettivo del club del presidente Lello Carlino è raggiungere la massima serie con una squadra che vede l'organico rinforzato in ogni reparto ed avrà alle spalle il direttore sportivo Gianni Dingeo, reduce dalla promozione in Serie A con l'Inter la scorsa stagione. Gli obiettivi sono sempre gli stessi, vincere e ritornare dove abbiamo iniziato la Serie A perché l'abbiamo fatto in tempi non sospetti quando il calcio femminile non aveva questa visibilità che dopo i mondiali sta avendo, però questo è un punto di partenza perché anche in Serie A vogliamo ben figurare, la squadra è stata costruita proprio in versione già Serie A, quindi già 8-9 ragazze saranno già pronte perché vengono dalla Serie A per vincere questo campionato di Serie B che sicuramente è difficile perché ci sono grandi club, c'è la Lazio, c'è il Tavagnacco, ci sono squadre importanti che puntano alla Serie A, però noi credo che abbiamo tutte le carte in regola per vincerlo. Il campionato del Napoli femminile partirà domenica 15 settembre con la prima trasferta sul campo di Cesena, sarà contro il San Marino domenica 22 la prima sfida in casa ed il 29 settembre la prima sfida di Coppa Italia sempre in casa contro la Lazio. È un sostegno che vogliamo dare a questo investimento importante per portare il Napoli femminile con forza in Serie B e puntare ancora più in alto, Napoli sempre più città dello sport, sport femminile in questo caso, quindi un altro motivo di orgoglio, mi sembra che è stato fatto un investimento importante, una bella squadra che giocherà nella nostra città, nel campo di barra, quindi siamo soddisfatti e sosteniamo questi progetti che investono sui giovani, sullo sport e sul Napoli. Grazie.